Presentata a Como la quarta edizione dell'iniziativa di solidarietà Panettone Sospeso, voluta dalla delegazione lariana dell'Accademia Italiana della Cucina e realizzata dai panificatori pasticceri della provincia di Como associati a ConfCommercio Como. La raccolta dei panettoni prenderà il via sabato 9 dicembre e si concluderà giovedì 21 dicembre. I clienti delle pasticcerie e dei panifici aderenti all'iniziativa, l'elenco completo e disponibile sul sito di ConfCommercio Como, potranno acquistare un panettone per sé e aggiungerne un secondo delle dimensioni che vorranno da destinare ai bisognosi. Anche i forni associati a ConfCommercio Como potranno contribuire donando quanti panettoni vorranno condividere con le persone meno fortunate. Terminata la raccolta, il Banco Alimentare della Lombardia, attraverso il programma CityCibo guidato da Monica Molteni, procederà alla distribuzione presso la rete di assistenza legata al mondo della fragilità familiare e sociale in base alle richieste pervenute dalle strutture caritative. Grazie. Grazie.